La lista di Chicago Pro 2023 appena uscito, c'è nome come Blessing the World, Justin Sherr, anche Patrick Moore, ci sono ancora altri atleti, forse ci sono 6 nomi che, 6-7 nomi che è appena uscito su questa lista adesso, probabilmente aggiungerà altri nomi prima di questo weekend. Quindi questi 3 nomi che ho appena detto sono i nomi che forse uno di loro in teoria, se non aggiungerà altre persone, possono vincere questa gara. Patrick Moore con sua estetica, probabilmente può vincere perché anche se è molto estetico però ha quel problema lì con le gambe, anche Blessing the World ha questo problema con le gambe che su parte sopra è veramente fantastico, secondo me su tutti i 3 ha il parte sopra più bello. Poi c'è Justin Sherr che è più completo e probabilmente secondo me vince Justin, ditemi la vostra cosa ne pensate di questi 3 nomi. Grante, con... Gante...